ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono john redd e come avete già capito dal titolo del video ecco il vincitore del festival di sanremo 2023 iniziamo dalla 28esima posizione per setu shari 27esima posizione will alla 26esima posizione anna ozza alla 25esima posizione holly conquista la 24esima posizione 23 per levante 22 per gian maria 21esima posizione per i cugini di campagna con la zio conquistano la ventesima posizione mara sattei alla 19 18esima posizione per leo gasman paola e chiara alla 17esima posizione articolo 31 sedicesimi lda conquista la quindicesima posizione alla 14esima posizione troviamo ariette come a cose alla 13 gialluca grignani conquista la 12esima posizione 11esimi moda con la pesce di martino decimi e lo di nona rosa chemical ottavo madame settima giorgia sesta quinta posizione per tananai ultimo quarto posto mister rei terzo posto lazza secondo posto marco mengoni primo posto è lui il vincitore e voi siete contenti del risultato finale del festival di sanremo 2023 scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento concluso il video se vi va iscrivetevi al mio canale per altre news un grosso abbraccio da ciò red news un grosso abbraccio da ciò red news un grosso abbraccio da ciò red